Una serata particolare a Castellamonte per parlare di due realtà che stanno per compiere 40 anni, una radio e una televisione. Beh sì, adesso dirlo io che sono stato il protagonista è un po' così, però sì. Abbiamo come archivio di Ovisio Canavesano completato da poco tempo il restauro e la conservazione di una parte significativa dell'archivio di Rete Canavese. Rete Canavese sta per compiere 40 anni. Questo mi ha consentito anche di fare un revival delle radio che a Castellamonte precedettero in qualche modo Rete Canavese. Abbiamo presentato ad un pubblico direi numeroso e interessato dei filmati dal 1985 al 1997, prevalentemente castellamontesi perché il pubblico ovviamente qui era interessato a questi tipi di argomenti, ma come ho detto potremmo fare e magari faremo serate analoghe a Quornier, a Rivarolo, a Divrea perché abbiamo privilegiato ovviamente nella selezione del materiale da conservare nel nuovo formato digitale soprattutto queste località che ci sono più vicine. Per quello che riguarda Castellamonte, per dare un'idea così degli argomenti, la discarica, l'ospedale, la nascita dell'archivio storico, la collocazione dell'arco di Pomodoro, abbiamo rivisto e risentito con una certa commozione e con piacere personaggi come Renzo Igni e come Don Salvetti, abbiamo visto situazioni castellamontesi completamente modificate, la collocazione del mercato all'inizio degli anni avanti. Comunque è un'occasione, come si è detto, come ha detto Elson Merlo, che è stato il grande protagonista della serata, l'occasione per fare dei confronti, per discutere un po' di quello che può e deve fare il giornalismo nel documentare una realtà locale. Immagini e storie che sono una grande ricchezza. È stato davvero importante questo lavoro che avete fatto, di poter portare ai giorni nostri documenti che non erano più visibili da 30-40 anni? Il livello, come sempre, di quello che noi facciamo è doppio. Da una parte tu sai e pensi e ottieni la gratificazione di una serata come questa di poter lavorare per i tuoi contemporanei, i quali fanno questi confronti che fai tu. È inevitabile che il pubblico delle nostre serate sia un pubblico di anziani o comunque di persone mature che più apprezzano perché rivedono una cosa che hanno conosciuto. E poi c'è l'altro aspetto che non vedrò, che non vedrà neanche Emilio Champagne, ma che presume, è comunque un motivo di orgoglio. Cioè è stato fatto un passaggio di tipo tecnologico che non può essere considerato definitivo perché i lettori di DVD fra 20 anni avranno fatto la fine dei lettori delle cassette VHS. Ma qualcuno che non sarò io forse fra 20 anni farà quest'altra operazione, cioè lo trasferirà sotto un altro formato e bene o male se l'operazione è fatta decorosamente, quell'intervista, quell'immagine, quella ripresa, quell'avvenimento di 20, 30, 40, 50, 100 anni fa potrà continuare ad essere visibile, potrà continuare ad essere udibile e quindi potrà essere comunque un punto di riferimento per la conoscenza del nostro passato.